Papa Francesco, messaggero di pace, visita il 28 e 29 aprile il Cairo, capitale di un Egitto che cerca la pace dopo gli ultimi sanguinosi attentati della Domenica delle Palme a due chiese copte a Tante e ad Alessandria. Ne parliamo con padre Antoine Alain, francescano di Alessandria d'Egitto, parroco della comunità copto-cattolica di Roma. Questo dà un valore in più della visita del Santo Padre alla nostra nazione che sembra per noi un messaggio di pace, di solidarietà, Dio che viene a visitarci con la sua pace. Quindi la sofferenza della croce viene abbracciata da questa misericordia di Dio che il Santo Padre è il miglior testimone di questa misericordia. Dopo l'arrivo all'aeroporto internazionale del Cairo, il Papa incontra il Presidente della Repubblica Al-Sisi, ricevuto in Vaticano nel novembre del 2014 e impegnato con il suo governo nella lotta al terrorismo islamico e nella tutela delle minoranze religiose. Ancora padre Alain. Questi diali diversi che vogliono dividere il Paese non sono tollerati dalla massa degli egiziani. L'Islam radicale per esempio non è una idea molto tollerata tra i musulmani stessi. Quindi penso che questo radicalismo religioso non troverà un terreno fertile in Egitto perché gli egiziani sono abituati a convivere insieme nella pace. L'attuale Presidente era il primo Presidente che ha assistito alla celebrazione del Natale copta e si è presentato personalmente in chiesa per fare gli auguri ai copti, questa cosa che non è mai successa nella nostra storia del cristianesimo in Egitto. Purtroppo troviamo all'interno anche delle istituzioni delle persone che non sono così tolleranti alla nostra presenza. Quindi non possiamo negare che ci sono ancora queste forme sottile di discriminazione ma penso che il Paese sta andando avanti nell'idea di eliminare anche queste realtà. Papa Francesco raggiunge quindi l'Università di Al-Azhar, la più importante dell'Islam sunnita già visitata nel 2000 da San Giovanni Paolo II e incontra il grande imam, lo sceicco al-Tayeb ricevuto in Vaticano nel maggio del 2016. La visita di Sua Santità ad Al-Azhar rappresenta una tappa storica significativa nei rapporti tra quello che si può considerare il centro della cristianità e quello musulmano. Sono certo che Sua Santità porrà domande soprattutto sulla sicurezza e la protezione delle minoranze in Egitto, soprattutto quella cristiana e Kopta che ha una presenza storica nel Paese. So che gli egiziani sono molto fieri della loro storia. Ho vissuto lì per due anni e parlando con musulmani egiziani dei loro connazionali di fede Kopta sono molto fieri di affermare che fanno parte della popolazione. Purtroppo la politica ed altre questioni hanno provocato una degenerazione di questa relazione. I Kopti in Egitto stanno veramente soffrendo per mano degli altri cittadini che sono musulmani e sono sicuro che il Papa porrà la questione ai leader politici e religiosi, sottolineando che è un fenomeno che va fermato. L'Azhar potrebbe essere un partner per la Chiesa Cattolica per poter costruire dei ponti con i musulmani. È un'istituzione che ha il suo peso e ha bisogno del sostegno anche cattolico. Quindi penso che è un Islam con cui possiamo dialogare, possiamo costruire la pace. Il Papa e lo sceico Al-Tayeb si spostano poi nel centro per le conferenze di Al-Azhar per intervenire alla conferenza internazionale sulla pace organizzata dall'Università Sunnita alla quale partecipa anche il Patriarche Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I. Il programma prevede poi l'incontro con le autorità nell'hotel Al-Masah, guidato dal presidente Al-Sisi, e la visita a Papa Tawadros II, guida della Chiesa Copto Ortodossa, la più grande chiesa cristiana del Medio Oriente duramente colpita dagli attentati dei fondamentalisti islamici. Una nuova tappa verso la comunione dopo la visita di Tawadros II a Papa Francesco nel maggio del 2013. Sotto la croce non ci sono altre cose che ci dividono, quindi siamo lì, viviamo per Cristo, testimoniamo la nostra fede e ci aiutiamo gli altri per poter andare avanti e mantenere viva la Chiesa in Egitto. Ci sentiamo ovviamente minacciati tutti, ma l'unione della preghiera, dell'operare insieme, quello ci unisce molto. Il giorno dopo, sabato 29 aprile, il Papa conclude il suo viaggio in Egitto incontrando la piccola comunità copto-cattolica guidata dal patriarca di Alessandria Sedrach. La messa sarà celebrata nel Palazzo dello Sport del Cairo.